Musica Sipente, Michele Barone, luogotenente del bossa del clan casertano dei Casalesi in Zagaria, secondo i PM può fare luce su rapporti mafia-politica-imprenditoria. Era malato, fu catturato nel 2006 dopo 43 anni di latitanza, muore a 83 anni il boss di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano. Centro di rottamazione a fuoco, ad Atripalda si segue la pista del racket, ore di lavoro per i pompieri, incendio accompagnato da esplosioni. Senza autorizzazione e registrazione dell'impresa, sigilli a Caposele ad una autocarrozzeria abusiva. Antonio Rocco e Margherita Belperio, due comunità in apprezzione per gli scomparsi di cui non si hanno più tracce. Al via manutenzione per la strada statale 372 Telesina, opere per un milione di euro per migliorare standard di sicurezza. Benvenuti e ben ritrovati in nuova edizione della Media News, lo abbiamo appena sentito, c'è un nuovo collaboratore di giustizia, si tratta di Michele Barone, gregario del boss Michele Zagaria, del clan casertano dei Casalesi. Sentiamo i dettagli. Dopo Massimiliano Caterino, un altro storico luogotenente dell'ex boss dei Casalesi, Michele Zagaria, diventa collaboratore di giustizia. Si tratta di Michele Barone, da Casa Vesena, per anni feudo incontrastato proprio del super boss, conosciuto con il soprannome di Capastorta, catturato il 7 dicembre del 2011 in un bunker. La collaborazione di Barone potrebbe aprire agli inquirenti della Procura della Repubblica di Napoli importanti scenari sui rapporti tra mafia casalese e politica e imprenditoria. Quando parliamo di inquirenti ci riferiamo ai PM Maurizio Giordano e Catello Maresca, quest'ultimo colui che catturò Zagaria dopo 16 anni di latitanza. Oggi, nell'ambito di unidienza del processo Medea, che la scorsa settimana ha visto la condanna di due imprenditori legati alla faczione Zagaria del clan del Cemento, Luciano Licenza e Bartolomeo Piccolo, il sostituto procuratore Maurizio Giordano ha illustrato un primo verbale di dichiarazioni del neopentito, proprio relativo agli imprenditori ritenuti legati al clan. Barone era recluso in regime di carcere duro, ovvero il 41 bis. I familiari e i suoi parenti sono stati trasferiti in nuove località protette. È morto 83 anni dopo una lunga malattia il boss della mafia Bernardo Provenzano. Dopo 43 anni di latitanza fu arrestato dieci anni fa in una masseria a Corleone, a poca distanza dalla casa dei suoi familiari. Mandava i suoi ordini con i celebri pizzini codificati in una lingua approssimativa. Nelle sue mani Cosa Nostra cambiò pelle, relegando in un secondo piano la forza militare a vantaggio di cooptazione di fiancheggiatori e professionisti insospettabili. Ampi settori della politica era detenuto in regime di 41 bis nell'ospedale San Paolo di Milano. Centro di rottamazione a fuoco ad Atripalda, in Irpinia. Si segue la pista del racket, ore di lavoro per i pompieri, incendio accompagnato da esplosioni. Vediamo le immagini. Si segue la pista del racket per fare luce sull'incendio che ha distrutto un'ampia parte di un centro per la rottamazione delle auto che si trova nel territorio del comune di Atripalda, a ridosso della variante 7 bis. L'incendio accompagnato da esplosioni ha prodotto una nube altissima che ha destato panico e preoccupazioni tra i residenti nella zona di via Giacchi, dove si trova il centro ecologico Rottamazione Veicoli, gestito da una famiglia di imprenditori di Atripalda. Si attende la relazione dei tecnici dell'ARPAC per valutare gli eventuali danni da inquinamento prodotti dall'incendio. A scopo precauzionale, il sindaco Paolo Spagnuolo, con un'ordinanza, ha vietato l'utilizzo alimentare di frutta e verdura provenienti dai terreni ricadenti nel territorio del comune. Le fiamme che hanno distrutto 200 auto destinate alla rottamazione sono state domate soltanto alle prime ore di stamane dai vigili del fuoco di Avellino, con i quali hanno lavorato anche quelli delle sedi provinciali distaccate e tre autobotti provenienti dal comando di Benevento. L'incendio sarebbe stato appiccato alle spalle della zona dell'autoparco, che confina con un'area boschiva disabitata. La procura di Avellino, che ha disposto il sequestro dell'area, ha ascoltato una decina di persone tra residenti e dipendenti dell'azienda e in mattinata ha partecipato ad un incontro promosso dal prefetto di Avellino, Carlo Sessa, in cui, insieme al comandante provinciale dei carabinieri Antonio Di Pietro, al comandante provinciale dei vigili del fuoco Alessio Barbarulo, è stato fatto il punto sulla situazione. Il titolare dell'azienda, ascoltato dagli investigatori, ha negato di aver ricevuto minacce o richieste estorsive. I carabinieri della stazione di Atripalda e i militari specializzati del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Avellino in poche ore sono riusciti ad individuare la causa che ha determinato l'incendio presso l'autodeposito. L'evento è da ricondursi ad una causa accidentale. Il rogo si sarebbe sprigionato a seguito dell'abbruciamento di residui erbosi derivanti dalla pulizia di un fondo rustico dedicato alla coltivazione di nocciole ubicato in prossimità del deposito, ma il forte evento ha fatto sì che le fiamme si propagassero rapidamente, arrivando ad investire la struttura e le auto. Una disattenzione assolutamente evitabile da parte del proprietario del terreno, che ha cagionato danni rilevanti, come abbiamo visto dalle immagini, sia alla struttura che all'ambiente. Le fiamme infatti hanno interessato rifiuti speciali non pericolosi, generando una densa colonna di fumo nero, chiaramente visibile anche a chilometri di distanza. La posizione dell'uomo è al momento al baglio degli inquirenti. Un ha pregiudicato, Elio Cuomo, 23 anni, è stato arrestato nella pomeriggio di ieri dalla polizia con l'accusa di aver appreso parte alle stese nel quartiere Forcella di Napoli. Cuomo, che è ritenuto affiliato ad un clan della sanità, è stato bloccato dagli agenti del commissariato. Cuomo deteneva armi non solo per conto del clan, ma anche per partecipare alle stese nel quartiere Forcella, sparatorie a scopi intimidatori contro abitazioni di appartenenti ai clan rivali. Con un banco, Matt, che era stato rubato ad un anziano cieco, stava acquistando due cellulari dopo aver prelevato 1.500 euro. Un giovane di 19 anni, Leonardo Izzo, incensurato, è stato bloccato dai carabinieri a Casa Nuovo, mentre stava per pagare appunto i due telefonini. Il prelievo effettuato con il banco, Matt, però è stato segnalato dal servizio di sicurezza della banca con un sms inviato sul cellulare di una persona che si prende cura del cieco di 83 anni, che ha avvertito i militari. Tre albanesi sono stati fermati dai carabinieri di Marcianise, su ordine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capovedere, perché ritenuti responsabili di almeno 12 furti in abitazioni compiuti dallo scorso mese di giugno in località balneari calabresi e nella provincia di Avellino. I tre stranieri di 27, 45 e 38 anni avevano nel Casertano, sulla litorale Domizio, la propria base logistica e organizzativa, da cui partivano per raggiungere in piena notte tra le 2 e le 4 le abitazioni, soprattutto villette ubicate sulla costa cosentina, come San Nicola Arcella. Senza autorizzazioni e registrazione dell'impresa, sigilli a Caposele, torniamo in Irpinia ad una autocarrozzeria abusiva. Sentiamo i dettagli. Scoperta dai carabinieri della stazione di Caposele, un'autocarrozzeria abusiva realizzata da un 46enne del luogo. I militari stavano svolgendo un servizio di perlustrazione quando la loro attenzione è stata attratta da un insolito movimento all'interno di un'area in cui ancora insistono alcuni prefabbricati post-sisma del 1980. Al fine di non attrarre l'attenzione ed approfondire la vicenda, i carabinieri hanno deciso di non rivelare la loro presenza e hanno atteso che sul posto giungessero colleghi in abiti civili che hanno attivato un servizio di osservazione all'esito del quale è scattato l'intervento. Una volta entrati all'interno del locale, i militari hanno constatato la sussistenza dei loro sospetti, accertando che era stata allestita in piena regola un'auto-officina con tutte le attrezzature ma completamente abusive perché sprovvista delle necessarie autorizzazioni ed in particolare della prescritta iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Identificato il 46enne, titolare dell'improvvisata impresa, sorpreso mentre stava verniciando un autocarro nell'area pubblica adiacente il prefabbricato. A suo carico è scattata una sensione amministrativa di oltre 5.000 euro per abusivo esercizio dell'attività di autoriparazione oltre al sequestro delle attrezzature che saranno confiscate. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative anche a carico dei proprietari di alcuni veicoli lasciati per la riparazione. I militari della compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un pregiudicato per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Il 50enne di Montoro si è reso più volte autore di minacce, molestie ed intimidazioni nei confronti della sua ex moglie. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato le decisioni del GIP Flavio Cusani e pertanto agli arresti domiciliari ad Angelo Mancini, 46 anni, avvocato, dirigente del Comune. Lunedì 4 luglio, dopo una settimana di reclusione presso il carcere di Contrada a Capodimonte, Mancini era stato inviato agli arresti domiciliari. Nessuna traccia di Antonio Rocco e Margherita Belperio nelle stesse ore. Comunità di Sinerchia e Buonalbergo in apprezzione per gli scomparsi. Sentiamo. I vigili del fuoco di Avellino continuano anche oggi le operazioni di ricerche dell'uomo Antonio Rocca, di 64 anni, disperso a Sinerchia. Località Valle della Caccia, l'UCL, unità di crisi locale, coordina i vari nuclei specialistici che stanno perlustrando sentieri, crepacci e dirupi. L'aria è stata dalle ricerche costantemente sorvolata, dall'elicottero dei vigili del fuoco del nucleo regionale di Ponte Cagnano. A tuttora, nonostante l'impegno profuso, le ricerche non hanno ancora dato esito. In alto mare anche le ricerche di Margherita Belperio, la donna originaria di Buonalbergo, è scomparsa due giorni fa. L'ultimo saluto ai familiari, prima di andare al lavoro, e poi nessuna traccia. Continuo a cercare il figlio, Emanuele, che ha scritto su Facebook «Vi chiedo aiuto. Mia madre è arrivata a Benevento con il pullman e non riusciamo ad avere sue notizie. Abbiamo contattato ospedali, carabinieri e polizia. Nessuno sa niente». Al momento della scomparsa, la donna indossava una maglia dai motivi floreali e dei pantaloni di colore scuro, statura 1,65, corporatura piccola, capelli biondi. Chiunque abbia notizie utili, può contattare immediatamente le forze dell'ordine ai numeri di emergenza 112 o 113. A Pagani, i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato due 26 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di varia natura. I militari hanno sorpreso i giovani mentre erano intenti a confezionare in un garage di proprietà di uno dei due bustine di marijuana con una sigillatrice per sottovuoto. Restiamo in tema. Sorpresi a cedere droga a due giovani della Valle Telesina agli arresti nell'ambito di controlli mirati dei militari. Sentiamo. È stata notata mentre cedeva una dose di stupefacenti è accaduto nella serata di martedì 12 luglio ad entrare in azione i carabinieri della stazione di Telese Terme nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella Valle Telesina unitamente a militari dell'aliquota Radiomobile che hanno tratto in arresto in fragranza di reato due uomini e una donna per aver ceduto marijuana a due giovani del posto. Successive perquisizioni personali e domiciliari hanno permesso inoltre il rinvenimento di 150 grammi di sostanze stupefacenti del tipo hashish 50 grammi del tipo marijuana e 13 grammi del tipo cocaina tutta suddivisa in dosi nonché in materiale per il confezionamento della stessa e la somma contante di 200 euro di vario taglio. Gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondareale di Benevento a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli acquirenti invece sono stati segnalati al prefetto. Rubavano pietra usata per pavimentazioni e rivestimenti sequestrate cave abusive di Verdello in Molise denunciati 5 campani. Sentiamo. Blizza Monte Rodoni del Corpo Forestale di Isernia che ha sequestrato cave abusive di Verdello mezzi meccanici e bancali di pietra denunciato 5 persone per danneggiamento ambientale estrazione abusiva e furto aggravato 4 uomini e una donna della provincia di Caserta. Le indagini coordinate dal comandante Sandra Martinelli erano iniziate con il rinvenimento di una palameccanica nell'area SIC della foresta di Maniale regionale Monte Caruso, Monte Gallo a Monte Roduni. Il mezzo era a carico di Verdello una pietra ornamentale utilizzata per le pavimentazioni di spazi aperti e per il rivestimento di muri e pareti esterne. Non risultando alcuna autorizzazione all'attività estrattiva hanno spiegato dalla forestale il materiale rinvenuto derivava da un evidente furto e per questo il personale lo aveva subito sequestrato ma nella notte successiva è stato trafugato nonostante i sigilli e i sistemi di bloccaggio. Tal episodio ha portato la forestale a monitorare con maggiore attenzione l'aria con il sopporto di videoriprese che hanno consentito di risalire agli autori del furto. Sono stati filmati mentre caricavano su un trattore e su un fuoristrada il Verdello. Nel corso delle indagini il sostituto procuratore di Isernia Federico Scioli ha disposto perquisizioni di varie aree locali durante le quali è stata ritrovata anche la pala meccanica trafugata. Il ritrovamento ha confermato la riconducibilità degli illeciti accertati ai soggetti indagati ancora non effettuata una stima economica del furto. Indagini della Procura sui torrenti Cavaiola e Solofrana Mission individuare scarichi illegali Il servizio La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera sta effettuando una serie di controlli lungo i torrenti Cavaiola e Solofrana L'obiettivo è individuare scarichi abusivi e quindi illegali e di conseguenza inquinanti immessi nei corsi d'acqua senza alcun trattamento. Questa mattina c'era anche il PM che sta indagando Emma Falda Daria Cioncada era lei lungo il tratto del torrente Cavaiola al confine tra Nocera Superiore e Nocera Inferiore lungo la strada statale 18 che ha voluto rendersi conto di persona dello stato del fiume che stranamente questa mattina era praticamente asciutto senza acqua se non per un rivolo che proveniva da uno scarico laterale al fiume C'erano anche tecnici del Lagori del Genio Civile della Polizia Locale di Nocera Superiore e delle Guardie Ambientali L'indagine è partita da un esposto presentato da un gruppo di cittadini e che il sindaco di Nocera Inferiore Maglio Torquato aveva poi girato alla Procura della Repubblica per questo motivo questa mattina c'era anche Torquato in Procura anche un dossier elaborato dall'Associazione Guardie Ambientali d'Italia L'attenzione sui corsi d'acqua che attraversano l'agro nocerino sarnese non è mai stata così alta così come in questo periodo ieri mattina uomini della Capitaneria di Porto di Salerno e di Roma hanno effettuato dei prelievi di acqua lungo la Cavaiola a lavorare e a indagare ci sono due procure quella di Nocera e quella di Torre Annunziata I lavoratori della Fonderia Pisano di Salerno in sciopero gli operai che non percepiscono lo stipendio da mesi hanno manifestato pacificamente con un corteo una marcia per il lavoro così è stata definita sentiamo Slogan contro il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ma anche Gianni Lettieri Cori contro Lorenzo Forti alla guida del Comitato Salute e Vita Fischi sotto il Tribunale e striscioni eloquenti che raccontano il dramma delle 120 famiglie senza lavoro con la chiusura delle fonderie Pisano i lavoratori questa mattina con i rappresentanti sindacali della CGL al termine di un'assemblea presso lo stabilimento di Fratte hanno scelto poi di marciare su Salerno via Calata San Vito via dei Principati sosta sotto il Palazzo di Giustizia sede della Procura che con il provvedimento ha fermato le attività non a norma delle fonderie e poi via sotto i portici della Prefettura in Piazza Mendola per essere ricevuti dal massimo rappresentante del Governo in provincia di Salerno in un volantino distribuito ai cittadini e agli automobilisti che nerni e fermi nelle loro auto assistevano al corteo che ha paralizzato per tutta la mattinata il traffico cittadino i lavoratori hanno chiesto di far tornare a lavorare la fabbrica in sicurezza e a norma ma l'industria scrivono deve andare avanti al loro fianco questa mattina anche le famiglie mogli e figli che hanno scelto di essere presenti al corteo mio marito ha solo 40 anni che lavora là questo è il primo mese senza stipendio senza stipendio senza ragazze come si fa? non chiedetelo a noi chiedetelo alle grandi istituzioni che ci hanno portato a questo chi lavora alle fonderie? lavora mio marito da 15 anni quasi con una famiglia di 4 bambini e adesso con questo polverone l'unica certezza è che stanno restando senza lavoro non abbiamo risposte nessuno nessuno sa dirci niente stiamo così stiamo cercando di sensibilizzare quantomeno la cittadinanza restare insieme a papà? che lavora ancora che deve lavorare ancora siete preoccupati? sì molto disagi per i cittadini di Tufara all'ufficio delle poste italiane ha chiuso i battenti sono due giorni circa che per il pagamento di bollettini raccomandate vaglia gli utenti sono costretti a recarsi agli sportelli di Montesarchio dove si è registrato un aumento di operazioni entro fine mese faremo arrivare in conferenza unificata un decreto per semplificare l'avvio dei progetti Sprar faremo saltare le vecchie procedure come i bandi e avvieremo una sorta di accredito permanente per gli enti che li hanno attivati con verifiche periodiche per l'accesso alla rete in ogni tempo ci sarà una commissione di valutazione permanente lo ha annunciato il capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'interno Mario Morconi in occasione della presentazione del rapporto Sprar 2015 oggi a Lanci Morconi ha poi aggiunto che si sta cercando di inserire nel decreto enti locali emendamenti che sostengono i sindaci impegnati con progetti di questo tipo al via la manutenzione per la statale Telesina opere per un milione di euro per migliorare standard della sicurezza sentiamo le proteste ai servizi anche le nostre denunce televisive potrebbero essere servite a qualcosa sono stati consegnati oggi presso il compartimento della viabilità per la campagna da parte di ANAS all'impresa la prima parte dei lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica stradale lungo la strada statale 372 Telesina tra le province di Caserta e Benevento i lavori sono relativi al primo contratto applicativo dell'accordo quadro del progetto ANAS basta buche e l'oro importo complessivo ammonta a oltre un milione di euro gli interventi consistono nel rifacimento della pavimentazione stradale più danneggiata nei tronchi della Telesina compresi tra il chilometro 0 e il chilometro 30 in provincia di Caserta e tra il chilometro 30 e il chilometro 61 in provincia di Benevento la statale rappresenta un'importante arteria di collegamento tra l'uscita di Caglianello dell'autostrada 1 Milano-Napoli e il raccordo autostradale 9 di Benevento ed è interessata da intensi e cospicui volumi di traffico in quanto si configura come l'itinerario preferenziale senza pedaggio per i collegamenti tra le regioni Campania e Puglia la Telesina è interessata inoltre da elevati volumi di traffico di mezzi pesante provenienti in buona parte dal distretto industriale interporto di Marcianise Maddaloni in provincia di Caserta gli interventi di manutenzione della pavimentazione permetteranno di migliorare sensibilmente gli standard di sicurezza dell'arteria viaria fluidificando la circolazione stradale consentendone nei tratti oggetto di intervento l'innalzamento dei limiti di velocità attualmente imposti la realizzazione dei maggiori interventi più impattanti sulla circolazione stradale è prevista a partire dal mese di settembre al fine di non arrecare disagi durante il periodo dell'esodo estivo è previsto inoltre che compatibilmente con l'organizzazione del cantiere dopo aver concordato le fasi lavorative con gli enti locali alcune più urgenti attività vengono eseguite già a partire dai prossimi giorni anche mediante l'istituzione di restringimenti della carreggiata stradale e siamo alla pagina sportiva mercoledì sul rettangolo verde del Ciro Vigorito di Penevento a porte aperte il primo allenamento della stagione diretto dal tecnico Marco Baroni per l'occasione sarà aperto esclusivamente il settore distinti a causa dei lavori di ammodernamento della tribuna il fischio d'inizio è previsto per le ore 17.30 Avellino sembra essere praticamente fatta per Lorenzo Tassi il calciatore di proprietà dell'Inter la società da cui sono arrivati già Belloni e Doncor il centrocampista agli arbori della sua cardiera con la maglia del Brescia veniva considerato il nuovo baggio nessuna sorpresa nella Serie A di basket tutte le 16 squadre che avevano conquistato il diritto sportivo di restare nella massima serie ci saranno l'Assemblea di Lega infatti ha ratificato l'iscrizione delle 15 squadre che l'anno scorso hanno guadagnato il diritto di rimanere in Serie A e l'iscrizione della Leonessa Brescia che ha vinto la A2 ed era questa l'ultima notizia vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo arrivederci e alla prossima edizione e alla prossima Previsioni per giovedì 14 luglio. Flashstorm colpisce i versanti orientali d'Italia, altrove sole e clima piacevole. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord saranno possibili dei temporali forti e anche con grandine sul Triveneto, prevalentemente soleggiato invece sul resto delle regioni. Al centro avremo locali rovesci pomeridiani in Abruzzo, più rari sul resto delle regioni adriatiche. Ampio soleggiamento e clima gradevole ma ventoso altrove. Raggiungiamo infine anche il sud. Sempre bel tempo sulle nostre regioni meridionali con cielo che si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Isolati addensamenti e piovaschi sul Gargano. I venti soffieranno da deboli a moderati e di maestrale su gran parte dei bacini. Temperature previste. Minime che risultano essere in diminuzione al centro nord con valori spesso sotto i 20 gradi. Ancora fino a 25 gradi al sud. Di giorno prevediamo un clima più fresco al centro nord. 21, 27 gradi al nord. 24, 29 gradi al centro e fino a 33 gradi al sud. Grazie a tutti. Grazie a tutti.